Dall'area Vestina parte un nuovo modo di concepire il piano di emergenza comunale. Grazie all'opera di sensibilizzazione del PAR, patto per l'Abruzzo Resiliente, i comuni capofila Farindola e Civitella Casanova hanno accettato di attivare l'aggiornamento del piano di emergenza comunale concepito in maniera differente, chiamando in causa la cittadinanza con la formazione delle funzioni di supporto, con la formazione delle scuole senza dimenticare i portatori di interesse in modo da capire le esigenze del territorio. Il piano di protezione civile deve essere condiviso e costruito con la popolazione perché chi meglio di loro sa posizioni e difetti di un territorio. La vicenda di Ricopiano, dove nessuno si aspettava un fatto del genere, fa scuola. Adesso noi che facciamo previsione e prevenzione ed emergency manager dobbiamo attivarci anche in tal senso. Quindi siamo qui perché è una scommessa da vincere. Si cerca di affrontare l'emergenza con una nuova prospettiva, soprattutto con personale formato e capace di fare la cosa giusto in momenti difficili. Abbiamo la fortuna di avere due gruppi di protezione civile locali, il gruppo PIVEC e il gruppo ANA che si stanno formando con personale esperto, con mezzi e attrezzature e con una regione che finalmente è attenta a questa causa e ci indenizia anche con l'acquisto di strumentazione fondamentale per affrontare al meglio il tipo di emergenza. È importantissimo anche farli partecipare, rendere un piano partecipato con la popolazione perché nei momenti più critici abbiamo vissuto sulla nostra pelle la tempestività, il saper cosa fare abbiamo visto che è molto determinante nel riuscire appunto nelle operazioni di emergenza.